Madre Terra è un'azienda agricola di 37 ettari che si trova nel sud del Brasile a Fosso di Iguassù. L'ha voluta padre Arturo Paoli per i giovani di questa città. È una città ricca, dove ci sono meravigliosi alberghi, dove ci sono le splendide cascate, dove passano ogni anno tantissimi turisti. Ma infelicemente in questa città vi sono ben 64 favelas, quindi emarginazione, quindi sofferenza, violenza, povertà. E questa struttura vorrebbe essere un punto di partenza per dare speranza a tanti giovani. E su questo vi informerò a mano a mano come tutti noi possiamo collaborare per dare una speranza nuova a queste creature che già hanno tanto sofferto.